Ma noi l'abbiamo detto più volte, Santina Pure, ieri sono stati fino a mezzanotte, siete testimoni, stanotte anche il capo di gabinetto, stamattina si è sentita con Marina Paparo, che io devo dire voglio ringraziare, perché ha fatto un ottimo lavoro, difficile, complicato, soprattutto lei, poi il CDA stava ormai da poco, e anche nella sua lettera di dimissioni, che ovviamente fa seguito a tanti incontri che abbiamo avuto, si comprende quanto è difficile stare ai vertici delle aziende, di una città come Napoli, i medici in generale, vediamo quello che accade in tutta Italia, delle società partecipate, a maggior ragione devo dire che un ABC dove c'è una regola che secondo me va rivista della totale gratuità, cioè questa donna, questa avvocatessa che si è immolata, praticamente ormai viveva solo per ABC, quindi credo che a un certo punto ha portato a compimento una serie di operazioni, è venuto meno il fatto che si possa coniugare sempre tutto nella vita. Leggo che dietro ci sarebbero conflitti tra il Comune di Napoli, ABC, nulla di tutto questo, il Comune di Napoli, così lo dissipiamo subito, tensioni, problematiche, situazioni economiche e finanziarie sono sotto gli occhi tutti, che sono complicate in ABC, sono complicate in ANM, sono complicate in ASIA, in Napoli Servizi e al Comune, quindi questo è un tema che non andiamo a scoprire l'acqua calda, ma quello che è importante è che il Comune e gli impegni che ha preso li mantiene e che anzi proprio in questo momento c'è tutta una discussione importante che vede coinvolta ABC, Comune di Napoli, rilevi della Corte dei Conti, che legano anche a proposito della discussione di cui si è parlato, i famosi utili ABC, Comune di Napoli, quindi non c'è un tema di conflitto tra il Comune e ABC, anche perché non facciamo gerarchie, ma ABC è quella più con il cordone ombelicale legato al Comune di Napoli, perché è un'azienda tutta speciale, quindi non può che esserci un rapporto di padre e figlio tra il Comune e ABC, quindi noi la sosterremo fino alla fine e per noi è una sfida così importante, lo voglio ricordare anche in questi giorni, dove in altri posti importanti del nostro Paese, a Roma Capitale c'è il conflitto tra CEA, Regione, Comuni e deve intervenire il Governo dichiarando lo stato di emergenza, qui che non è che stiamo navigando in acque tranquille, però ABC mantiene una situazione di solidità e anche in un momento di crisi idrica e di siccità senza precedenti, come vedete, è gestita in tutta tranquillità, perché c'è il Sindaco e una struttura pubblica che verifica, monitora, controlla e se ci sono delle criticità saremmo noi a intervenire come abbiamo fatto anche in queste settimane. Allora io adesso e cosa ho fatto? Immediatamente, domani, oggi o domani, partirà l'avviso pubblico, perché noi a differenza di altri comuni che scelgono intuito persona, gli amministratori, vedo anche quello che sta accadendo ad Atac, e noi abbiamo anche in genere tolto i consigli di amministrazione infatti gli amministratori, non ce lo voglio dire perché spesso ci fanno lezioni di trasparenza e di etica pubblica, noi faremo un avviso pubblico come sempre facciamo, credo che diamo 30 giorni, nonostante ci sia l'urgenza di poterne dare anche di meno, ma stiamo ad agosto, 30 giorni, nel frattempo nomineremo una persona, credo un profilo interno dell'amministrazione, per traghettare alla prossima nomina dei vertici di ABC, che a questo punto interverrà ai primi di settembre. in totale continuità, soprattutto cercando di indicare personalità di alto spessore, come è stata Marina Paparo, con competenze, ma anche con quel profilo politico, che forse in ultimi tempi è un po' mancato, di portare anche all'esterno l'esperienza dell'acqua pubblica, soprattutto in un momento difficile e delicato per questo bene comune, non nella nostra città ma nel resto del mondo.